Io avevo anche 9 Se il raffreddore non mi passava, al mattino sentivo aprirsi la porta del frigorifero Quel rumore di soffietto sentivo Mi ha provocato un trauma Estraeva delle supposte della Zerinol Calibro 9 Parabellum di questa dimensione Diametro 8 Il mio culetto era solo da 2 Non so come facesse, riuscivo a farla entrare Poi la mamma ti diceva, io vado di là Devi tenerla dentro Mia mamma per i primi 6 anni mi ha dimostrato un amore Mi svegliavo al mattino, mi aspettava in cucina e mi diceva, vieni qua Di chi sei tu, vieni qua Topolino, vieni Senti Chiodorino, che sai, vieni qua, di chi sei tu Per 6 anni, a 6 anni gli ho detto, mamma ma sei rincoglionita, sono sempre io Esco dalla camera, vengo in cucina, quanti siamo in casa?